Arezzo è la terza provincia artigiana d'Italia e la prima in Toscana per risposta alla crisi. Nel rapporto tra l'apertura di nuove imprese e chiusura di vecchi esercizi, frutto di un'analisi di Confartigianato su dati Union Camere, Arezzo Artigiana assume quindi una posizione di eccellenza nazionale, non soltanto regionale. Con una sostanziale tenuta, di fatto, per andamento è la terza provincia artigiana d'Italia, preceduta soltanto da Iserni e Bolzano. I dati sono aggiornatissimi, si riferiscono al primo trimestre di quest'anno e considerano iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province. Il risultato è che Arezzo è al terzo posto in Italia e per quel che riguarda le altre province toscane noi troviamo Prato al sesto, Livorno al ventunesimo, Grosseto al ventiduesimo, Firenze addirittura trentatresima. Insomma, l'artigianato di Arezzo chiude in rosso registrando solo un meno 0,34%, spiega Ferrer Vannetti, presidente di Confartigianato in Presa Arezzo. Nella nostra provincia abbiamo visto chiudere 297 imprese, ma ne abbiamo aperte 260. Ripeto, chiude in leggero rosso, ma riprende fiato Arezzo all'inizio del 2014. La riduzione delle chiusure è un segnale positivo, insiste Vannetti. Le imprese cominciano ad avvertire che il vento dell'economia sta cambiando e cercano di restare aggrappate al mercato per cogliere le opportunità di rilancio dei consumi.